da dietro il contratto è annullato mi mi non c'è un elicottero io provo di rai ha aiutato un altro ma nell'elicottero l'ha fatto? si 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 me li fa tutti me li fa tutti te lo giuro me li fa tutti instagram è moonrider si ma me li fa tutti questi ho diventato ancora? grazie